Amici sportivi, ciao qui da Salvatore, dell'Ortica Team. Siamo in questo momento qui a Castle Novo, dove tra pochi istanti avverrà la partenza di questa bellissima corsa di 6 km, in cui un chilometro su sterrato. Ci sono tantissimi amici ortichini, circa 7 atleti. Noi attendiamo la partenza, perché questa sarà una bellissima corsa. Castle Novo è una città che si trova nella Lomellina nord-occidentale, a circa 6 km da Vigevano. Molto bella, sulle rive del Ticino. Comunque ci riascoltiamo dopo. Ecco, sono 600 partecipanti, come ha annunciato lo speaker. Adesso attendiamo la partenza. Ecco, fra due minuti ci sarà la partenza. Attendiamo. Ecco, partite in questo momento. Eccoli qui, i nostri amici. Rottichini, siamo in mezzo, siamo in te alla corsa. Eccoli l'aria. L'aria, eccola lì in fondo. Eccoli qui, bravissimi. Vediamo se vediamo qualche ortichino qui in mezzo, sarà un po' difficile, però non ci proviamo. Eccolo lì, eccolo lì. Eccolo lì in mezzo, provate a individuarlo. Eccolo lì.